Sulle isole di Ischia e Proceda si è concluso il primo largo raggio dei carabinieri della locale compagnia volto alla repressione dei reati e al monitoraggio dei flussi turistici in occasione delle festività pasquali. Controlli a tappeto sia a terra che in mare, 5 persone denunciate con 202 persone identificate e 98 veicoli controllati, non sono mancati controlli amministrativi. Durante le operazioni i carabinieri della stazione di Forio hanno sorpreso tre persone che avevano rubato una bici elettrica. L'e-bike dal valore di 1.500 euro era parcheggiata nei pressi della banchina agli scafi del porto di Casamicciola ed è stata restituita alla legittima proprietaria. Per i tre denunciati, un 52N, una 50N e un 46N nei quartieri spagnoli già noti alle forze dell'ordine, anche la proposta per il foglio di via è obbligatorio dai comuni dell'isola d'Ischia. Il 52N dovrà rispondere anche di un altro furto. Dalle indagini dei militari che hanno analizzato i sistemi di videosorveglianza, infatti è emersa che l'uomo si è reso responsabile di un analogo episodio avvenuto a Forio lo scorso 24 marzo. In quel caso a far delle spese un cittadino di 48 anni che aveva parcheggiato la bici elettrica a piazza Medaglie d'Oro. La stazione di Procita invece ha denunciato il socio accomodatario di una ditta edile che aveva impiegato un lavoratore in nero. Anche quest'ultimo è stato denunciato perché non regolare sul territorio nazionale. I carabinieri di Ischia, assieme al personale ASRA Napoli 2 Nord, hanno controllato un esercizio commerciale di via Fondo Basso per il gestore prescrizioni per la non conformità delle norme igienico-sanitarie che dovranno essere risolte entro 30 giorni. La moto vedetta di Ischia ha controllato 22 imbarcazioni e identificato 29 persone, 11 le sanzioni contestate tra le quali anche l'aver pescato nell'area marina protetta Regno di Nettuno.